Dopo la candidatura ai debiti di Donatello, il cortometraggio Addio Clochard del regista palermitano Michele Livolsi, prodotto da Ciacchitali e interamente girato tra Trapani ed Elice, è in gara al concorso di Rai Channel Tulipani di Seta Nera. Una vittoria da conquistare a suon di visualizzazioni, necessaria per superare il primo step ed accedere alla finale. E' possibile votare il corto aprendo il link www.tulipanidisetanera.rai.it e cliccare sull'icona Mi piace Facebook, importante per far arrivare in finale Addio Clochard. Questo cortometraggio è stato scelto tra 150 cortometraggi in gara al dodicesimo festival di Tulipani di Seta Nera, è un festival che è stato promosso da Rai Channel e quindi siamo felicissimi di questo. Ora per poter arrivare in finale e quindi poter vincere, noi vi chiediamo di visualizzare il cortometraggio, quindi andando o sul sito del festival Tulipani di Seta Nera oppure andando sul sito Facebook del regista che è qui accanto a me Michele Livolsi e quindi diciamo di cercare di visualizzare il più possibile perché così possiamo andare in finale. La visualizzazione finisce intorno mi pare al 5 di maggio, siamo attualmente i primi, però se tutti insieme continuiamo a visualizzare il cortometraggio ce la possiamo fare. Questa è una cosa bellissima perché il cortometraggio, a parte la tematica sociale che è abbastanza importante, valorizza molto il territorio trapanese, questo ci tenevo a dirlo perché è veramente molto bello. La tematica sociale è importante, lo abbiamo già detto, è un cortometraggio che si è già giudicato dei premi. Sì, si è giudicato i premi come migliore fotografia e come migliore storia su sociale. Cosa dico a tutti che ci sta seguendo in questo momento? Votate tutti, tutti insieme, possiamo vincere e dare questo forte messaggio per queste persone che hanno tanto di bisogno. Visualizzate tantissimo il cortometraggio Addio Closciar, è stato girato qui a Trapani, nel territorio trapanese. Aiutateci a vincere questo premio Rai Channel. Grazie a tutti.